Benissimo, allora intanto fa doveroso salutare tutti, buonasera, diamo inizio alla commissione bilancio di oggi mercoledì 20 marzo, all'ordine del giorno abbiamo 5 punti quindi direi che è il caso di iniziare in maniera tale da poterli svolgere con serenità e in tempi accettabili. Allora, come primo punto all'ordine del giorno abbiamo variazione al bilancio di previsione 2019-2021. Come secondo punto acquisizione essenziali dell'articolo 31,21 della legge 4.4.8 del 98 al completamento dell'intero sedime di via Gb Tiepolo e di alcuni tratti delle via Bidernuccio, Monte Grappa, Monte San Marco e Tartagna. Acquisizione gratuita come terzo punto all'ordine del giorno. Acquisizione gratuita essenziali dell'articolo 31,21 della legge 4.4.8 del 1998 di alcuni tratti stradali via Romance. Quarto punto in oggetto acquisizione gratuita essenziali dell'articolo 31,21 della legge 23.12.98 numero 4.4.8 di alcuni tratti di via Mestre. Come ultimo punto oggetto linea di indirizzo per il rinnovo dell'accordo parasociale volto a disciplinare della cooperate governance di Acegas, APSA, AMGA, SPA. per l'aggiornamento dell'accordo industriale con era SPA del 23.6.2014. Quindi a illustrarci il primo punto in oggetto, quindi la variazione in bilancio, abbiamo l'assessore dottoressa Laudicina che motiverà l'argomentazione. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri presenti e grazie anche ai dirigenti. Dunque, allora, il primo punto appunto è rappresentato dalla variazione di bilancio e se avete avuto modo di osservare e guardarla già voi vi sarete accorti che è una variazione per molti aspetti è molto tecnica e poiché diciamo sia in parte corrente che in parte capitale vedete che si tratta di adeguamenti di spesa in entrata e in uscita di spese che erano state antecedentemente finanziate dall'Uti con i fondi dell'intesa sviluppo che ora vengono recepiti dal Comune di Udine e altri interventi sempre finanziati dall'Uti centrale che a seguito di definitivo riparto dei fondi per finanziamenti in materia di politica della sicurezza. Diciamo che forse quelli che, diciamo, le due voci che invece metterei maggiormente in evidenza sono una voce in parte corrente che riguarda l'entrata in parte corrente, quindi siamo all'allegato a entrate correnti che riguarda il contributo regionale in materia di sicurezza, quindi a favore dei comuni capoluogo quindi diciamo che c'è un'entrata pari a 152.228 euro e la spesa invece che verrà sostenuta in conto capitale pari a 110.000 euro che riguarda il rifacimento dell'impianto elettrico del caffè Contarena e le altre, se avete avuto modo di osservare la variazione, appunto come vi dicevo prima, sono diciamo compensazioni, se vediamo la parte delle spese correnti, trovate appunto queste diciamo appostamenti che riguardano il personale che si tratta, che vengono poi si compensano con la voce che c'è all'ultimo punto trasferimenti correnti da altre amministrazioni locali per un milione e due e per quanto riguarda la spesa corrente appunto avete le indicazioni di quelle che sono le spese in conto capitale finanziate con interventi finanziati da intese sviluppo sono interventi di cui sono integrazioni a seguito del riparto dell'UTI, riguardano la salvaguardia dei dossi, l'assistenza auto per le colonine di ricarica, l'assistenza a veicoli, cioè l'acquisto di veicoli, altri l'acquisizione di beni materiali per la protezione civile, poi ci sono 111 mila euro per il collegamento delle sedi municipali con gli istituti scolastici con la rete attraverso la fibra ottica per rete telematica, interventi sulla banda ultralarga, integrazione della rete di videosorveglianza e poi altri investimenti che se non vengono finanziati con l'intesa sviluppo del 2019 di cui si è anche già parlato, l'impianto di risalita del castello, un impianto di videosorveglianza, riutilizzo del palazzo del Palamostre che qui vede un cambio di fonte da contributo a finanziamento UTI con rideterminazione del finanziamento e poi solo perché questa possa essere inserita a patrimonio la rotatoria dov'è? Dov'è la rotatoria? Scusate che mi sono staccati tutti i fogli. Ecco sì, negli interventi diversi trovate l'acquisizione diciamo della rotatoria, quella che è fatta sull'intersezione tra Viale Palmanova e Via Meleniano che viene inserita qui per poi essere appunto inserita a patrimonio. Io sinceramente non avrei altro da dire, poi in caso qui c'è anche la dottoressa del giudice se avete qualche domanda da farle. Grazie dottoressa, se qualcuno ha delle domande vedo che si è prenotato il consigliere Mazza al quale do la parola. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Solo un punto così a chiarimento per quanto riguarda le opere presso il Barconta Reina, appunto questo impianto elettrico, sarà messo diciamo all'asta o offerta diciamo a trattativa diretta per quanto riguarda questo tipo di opere. Grazie. Visto l'importo perché insomma un impianto elettrico da 110 mila euro non mi sembrano pochi. Oltre i 40 mila euro non può essere un'assegnazione diretta, però facciamo rispondere casomai la dottoressa. Prego dottoressa. Allora, diciamo che racconto più, diciamo mi dedico più all'aspetto che ha portato alla verifica dei lavori da fare e poi l'architetto invece Agostini magari vi dirà perché comunque abbiamo già iniziato appunto che tipo di procedura è stata scelta. Allora, credo che voi avete letto sui giornali, no? Perché insomma c'è un po' di tensione tra il gestore del Contarena e la sottoscritta. Diciamo che la società gestrice del Contarena ha richiesto che venissero fatti più volte e portate in compensazione le spese che ritiene di aver sostenuto nel corso di questi anni per la manutenzione del locale. Naturalmente da contratto il Comune, l'amministrazione è tenuta a effettuare tutte le manutenzioni di natura straordinaria e il Comune non ha mai dichiarato di volersi sottrarre a questo tipo di intervento, ci mancherebbe, no? Quindi, dato che ci sono stati più scambi diciamo di epistolari, incontri e poi scambi epistolari appunto con la società gestrice, è stato, si è deciso di inviare, di mandare diciamo nel locale un perito che valutasse qual era lo stato dell'immobile e da verifiche fatte si è visto che comunque l'impianto elettrico aveva la necessità di essere manuteso. Le manutenzioni che devono essere svolte sull'impianto elettrico sono sicuramente di manutenzioni straordinarie perché sono manutenzioni che vengono fatte per manutendere il locale che poi dopo il locale è gestito da una società che ci svolge dentro un'attività tipo commerciale ma soprattutto per diciamo manutendere il locale e sono state fatte prima una perizia e poi è stata rifatta una seconda perizia diciamo che anche le manutenzioni sono state oggette di un'istruttoria di giunta e a seguito dell'istruttoria di giunta appunto la giunta ha formalizzato la richiesta appunto che si andasse avanti con appunto i lavori dell'impianto elettrico. Adesso ve lo dico perché insomma è stata mandata una PEC alla società gestrice, si è richiesto alla società gestrice visto che comunque sostiene di aver fatto diverse manutenzioni e di aver speso diversi insomme per la gestione del locale di fornire in maniera precisa le manutenzioni che ritiene un elenco diciamo delle manutenzioni che ritiene che possono essere considerate straordinarie si è chiesto di fornire le copie delle fatture quietanzate riguardanti le manutenzioni fatte e poi sulla base appunto di quello che verrà, la lettera è stata spedita la scorsa settimana circa, gli si è dato un tempo di 30 giorni per fornire tutti questi dati nonché gli si è chiesto di fornire anche dati relativi al personale, al bilancio eccetera eccetera vedremo quali sono eventualmente le manutenzioni che la Springtime SRL perché si chiama così la società che gestisce il locale, l'elenco che ci darà però nel frattempo comunque i lavori di questo tipo devono comunque essere fatti perché sono lavori importanti e comunque è chiaro che un impianto di questo tipo deve essere manuteso. Sull'entità dei lavori, sul tipo dei lavori, su come si svolgerà la gara, le valutazioni varie di tipo tecnico, lascio la parola all'architetto Agostini Grazie dottoressa, quindi interviene il dirigente Agostini al quale do la parola, grazie Buon pomeriggio, dalla perizia che abbiamo fatto i lavori sono compresi fra i 65 e i 75 mila euro quindi ci sarà sicuramente una gara, essendo di sopra dei 40 mila, comunque anche forse al di sotto avremmo fatto un'indagine di mercato, in questo caso faremo proprio una gara e la perizia ha messo in evidenza una serie di interventi che devono essere fatti che saranno comunque frutto di un progetto specifico che verrà assegnato ad un professionista abilitato Grazie dottor Agostini, se ci sono altre domande, prego Prego, allora Sì, grazie Buonasera Grazie Presidente Volevo capire, chiedo all'assessore cioè questo intervento comunque è indipendente rispetto al contenzioso a ciò che è, alla trattativa che c'è tra amministrazione e gestore quando scade tra l'altro l'appalto Si è prontata la dottoressa Lodicina per la risposta Allora, al momento non c'è nessun tipo di contenzioso, c'è solo uno scambio epistolare c'è stata anche la massima disponibilità, diciamo, a più volte, insomma, chi ha la procura, diciamo, a gestire i rapporti con il comune che non è l'amministratore unico della società è stato accolto nei miei uffici e anche dal sindaco quindi, però, informo che contenziosi non ce n'è c'è uno scambio epistolare in cui la società gestrice chiede che gli si vengano riconosciute determinate spese e c'è uno scambio epistolare da parte della, inizialmente della sottoscritta poi anche dagli uffici in cui, diciamo, si rileva che queste spese da contratto che siano state spese di manutenzione ordinaria ma soprattutto di manutenzione straordinaria avrebbero dovuto essere autorizzate e comunque, malgrado appunto il contenuto del contratto che dice che le spese dovevano essere tutte autorizzate si è ritenuto necessario richiedere alla società appunto fornisse un quadro un quadro compassivo il contratto scadrà tra circa sette anni prometto che per il... cioè, comunicherò la data precisa adesso ho un momento di buio se devo essere sincera e non ho neanche portato con me il contratto non ci ho pensato e comunque, insomma, ci sono ancora sette anni e... sì, quindi adesso, diciamo che è stato di una situazione un pochino in divenire però, indipendentemente dallo scambio espistolare questo intervento comunque doveva essere doveva essere fatto ecco quindi, magari per il giorno del consiglio vi do il quadro preciso delle date, delle scadenze degli importi se lo ritenete così ok? Grazie, Assessore ci sono altri interventi? sì si, prenotato il consigliere Pirone prego sì vorrei capire i fondi da contributo regionale destinati ai comuni capoluogo per la vigilanza privata cioè, ci inonderete di telecamere dove verranno posizionate mi pare che tra l'altro e ho visto anche che l'amministrazione era presente è stata presentata questo nuovo progetto di prevenzione al consumo di droghe e di sostanze stupefacenti tra i minorenni promosso dalla questura dalla Danieli questo progetto se non sbaglio sapremo se non finanziato anche dall'azienda Danieli segno che forse al di fuori di qua almeno a Butlio dico si accorgono che investire sulla prevenzione anche rispetto a problematiche molto serie è più efficace che dilapidare denaro pubblico aiosa sul tema delle telecamere volevo capire se data anche l'enfasi che è stata sottolineata da parte dell'assessore regionale Roberti per questo tipo di fondi io non è che nego voglio dire non discuto diciamo le preoccupazioni dei cittadini ci mancherebbe ma parliamo di centinaia di migliaia di euro di fondi in più quindi vorrei capire come l'amministrazione diciamo intende spenderli posto che come dire c'è anche questo lo dice lo dice la stessa questura quindi fonti ufficiali la situazione almeno è quella di una città tranquilla adesso mazza mi dirà che noi abbiamo sottovalutato che abbiamo fatto che 15 anni di amministrazione precedente ormai il disco diciamo lo conosciamo non so però io diciamo da amministratore pubblico lo dico anche se sono fondi della regione e continuo a insistere più che assumere vigilanza privata io stiamo ancora aspettando le nuove assunzioni dell'amministrazione comunale il piano di assunzioni dell'amministrazione comunale perché per esempio la polizia locale è sotto organico non da oggi si intende da diverso tempo quindi c'è un concorso bloccato c'è la necessità di rimpinguare diciamo il personale però qua si parla di parecchie cifre allora voglio dire voi siete da un anno cioè la Udine è più sicura è meno sicura cioè perché queste dotazioni straordinarie cosa c'è che voglio dire che sta sostenendo a questo punto in città e come intendete utilizzare questi fondi risottolineo il fatto che e noi avevamo proposto anche come progetto innovare un emendamento al bilancio agire sulla prevenzione è importante il nostro emendamento al bilancio è stato bocciato abbiamo visto con piacere che Questura Danieli e le altre istituzioni pubbliche tra cui anche il comune hanno aderito a questo progetto che specificatamente si rivolge alle fasce deboli cioè a tanti minorenni che purtroppo cadono diciamo in questo triste giro chiedo scusa grazie consigliere mi permetto di dire anche io due parole in merito a queste osservazioni che sicuramente la prevenzione è un qualcosa di civile oggi per affrontare una problematica come questo problema legato alla droga però l'impletamento dei servizi di sorveglianza non sono legati unicamente a un crimine purtroppo lo spettro dei crimini sta aumentando e alle volte serve avere una presenza sul territorio anche per sopperire a quella che è la mancanza di uomini quindi anche ai fini di fornire dei deterrenti perché quando c'è in una strada poco passaggio è più facile quando magari in una strada c'è poco passaggio è più facile che l'avventore si senta più sereno a effettuare un crimine magari vedendo un occhio che un po' lo sorveglia può fungere anche da deterrente cioè un po' questa è la tendenza che sta usando un po' tutte le città per difendersi un po' da questo tipo di reati che stiamo vivendo un po' in Italia dappertutto Udine rimane comunque sicuramente a mio parere una città più tranquilla rispetto a altre però dobbiamo fare conti con dei fenomeni che in Italia in questi ultimi anni stanno aumentando e in qualche modo è un modo anche per creare dei deterrenti oltre che possono essere risolutivi per reati molto più importanti tipo omicidi stupri cioè ci sono molte purtroppo cose che accadono non solo legate a quel discorso lì grazie do la parola al consigliere Mazza grazie presidente volevo tranquillizzare il collega Pirone non è che dico voi 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 non avete fatto anzi io ho dato una scorsa così a un'immaginetta che magari invito anche voi colleghi a magari richiamare proprio sul sito del comune di Udine polizia locale c'è la mappa delle telecamere che sono presenti in città sì mi pare che non siano poche sono c'è una bella selva di telecamere sono già installate quindi non è che vi vi inondiamo o inondiamo la città di telecamere telecamere ce n'è evidentemente sono già state messe nel passato magari qualcuna non sarà più in condizioni diciamo ottimali per quanto riguarda la definizione però queste telecamere sicuramente riescono come ha detto anche il presidente certamente a fornire un valido deterrente per quanto riguarda la criminalità e peraltro servono oltre che deterrente anche per rintracciare i criminali quello che si vuole fare attraverso le nuove telecamere che si andranno ovviamente a piazzare nei punti più importanti sono proprio telecamere volte anche a riconoscimento facciale quindi questo saranno sicuramente di usire le forze dell'ordine nel contribuire ad avere una città sicuramente più sorvegliata più tranquilla dove ovviamente chi il cittadino che si comporta bene non avrà nulla se non da complimentarsi per un ottimo controllo del territorio e che si comporta male è chiaramente forse il caso che a Udine è meglio che si tenga la larga perché chiaramente verrà sicuramente controllato e se è latitante da dover restare probabilmente ecco ci sarà una chance in più per poterlo fare la sicurezza rientra ovviamente in quello che è il nostro tema fondamentale campagna elettorale quello che vogliamo fare migliorare oltre a quello che già c'è vogliamo sicuramente migliorarlo e per rendere ovviamente la città il più sicura possibile al di là appunto della diversa tipologia che ci sono di crimini sappiamo non c'è solo la droga ci sono anche altri tipi di di crimini non sto qui a elencarli tutti ognuno ha il suo ambito di conoscenza certamente il controllo del territorio va effettuato al meglio possibile e gli occhi elettronici servono e servono sicuramente per questo grazie grazie consigliere Mazza e si prenota appunto la dottoressa laudicina prego una brevissima risposta alla richiesta del consigliere Pirone dunque su sulle telecamere allora i 152 mila euro che sono inseriti in variazione non riguardano la video sorveglianza ma riguardano la vigilanza quindi sorveglianti riguarda la video sorveglianza se sarà mia cura riferire all'assessore Cianni la richiesta in modo tale che così in consiglio magari si faccia trovare preparato sull'argomento e invece riguardo a diciamo la dotazione organica posso informare che stanno prendendo avvio appunto tutti i bandi per le future assunzioni e quindi insomma nel giro di breve tempo quello che comunque la norma ci consente speriamo comunque di portare avanti appunto il progetto di incrementare il numero di vigili presenti sul territorio poi sul fatto che l'educazione sia fondamentale direi che per il lavoro che facciamo tutti e due è assolutamente fondamentale ecco viene prima di ogni altra di un'altra cosa assolutamente sì siamo perfettamente d'accordo grazie dottoressa se non ci sono altri interventi possiamo passare alle votazioni grazie la votazione è chiusa presenti 31 favorevoli 23 contrari 8 astenuti 0 l'oggetto 1 è approvato possiamo passare alla discussione del secondo oggetto acquisizione essenzial articolo 31 comma 21 della legge 448 del 98 completamento dell'intero sedime di via GBT Epolo e di alcuni tratti di via Benternuccio Monte Grappa Monte San Marco o Tartagna appunto si è prenotata la dottoressa Radicina per commentare questo oggetto prego allora la dottoressa Radicina interviene in questo senso punto 2 all'ordine del giorno punto 3 all'ordine del giorno punto 4 all'ordine del giorno si tratta di delibere tutte similari solo la prima diciamo era già stata trattata in consiglio nel novembre del 2017 si tratta di acquisizioni a titolo gratuito da parte del comune di alcuni tratti di strada che non è un argomento che mi appassiona se siete d'accordo io visto che abbiamo il dirigente Agostini presente farei trattare insieme tutti non so consiglieri di minoranza siete d'accordo che facciamo trattare siccome sono tutte uguali le delibere le facciamo trattare tutti insieme nel punto 2 3 e 4 all'architetto Agostini in contemporanea ok grazie dottoressa interviene appunto il dottore Agostini allora faccio una premessa la legge a cui facciamo riferimento del 98 fa parte di una finanziaria l'articolo 31 prevede che in sede di revisione catastale viene data facoltà agli enti locali con proprio provvedimento di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre 20 anni preve acquisizione del consenso da parte dei proprietari il coma successivo dice che la registrazione e la trascrizione è a titolo gratuito allora perché si è resa necessaria questa norma perché si è scoperto che in quasi tutte le città parecchi tratti stradali non erano pubblici seppur le strade fossero a tutti gli effetti pubbliche in quanto accorpavano delle parti di mappali derivanti dai frontisti questo accade anche a Udine questa norma consente di poter regolarizzare queste situazioni in molti casi i proprietari non sanno nemmeno che il marciapiede della strada è ancora una particella di loro proprietà ma pensano effettivamente che sia già accorpata al demanio stradale e quindi con delle semplici comunicazioni vengono informati gli effettivi proprietari che acconsentono sempre o quasi sempre all'accessione gratuita anche perché si sgravano degli oneri di gestione e di manutenzione che altrimenti resterebbero a carico loro noi questa norma l'abbiamo utilizzata per regolarizzare nel tempo molte situazioni ovviamente portando man mano in consiglio l'acquisizione una volta acquisita i consensi da parte dei proprietari così è successo anche per il punto 2 all'ordine del giorno via Tiepolo via Via Derenucio via Montegrappa che nel 2017 è andata in consiglio ma all'agenzia delle entrate hanno mosso per la prima volta dopo anni alcune eccezioni sul modo di classificare le strade negli atti di consiglio abbiamo fatto una trattativa di circa un anno per individuare il modo che andasse bene all'agenzia delle entrate soprattutto per la trascrizione quindi per la registrazione e finalmente siamo riusciti a chiudere quindi riportiamo in consiglio il punto 2 che era una delibera già passata nel 2017 con una nuova riorganizzazione dei mappali delle particelle che dobbiamo acquisire mentre per quanto riguarda via Romance e via Mestre erano due strade su cui già avevamo avuto i consensi e che abbiamo riorganizzato nella maniera che abbiamo concordato con l'agenzia delle entrate per quanto riguarda poi le registrazioni e le trascrizioni se ci sono domande sono a disposizione grazie dottor Agostini ci sono degli interventi delle domande su questo punto non ci sono allora se non ci sono interventi se non ci sono domande possiamo proseguire con la votazione grazie un po' più questo argomento un po' più sentito avete votato questo è scaldato ho visto che era un argomento dai siamo andati sul verde siamo su colori freddi bene l'oggetto è passato l'oggetto numero 2 è passato votanti presenti 31 va bene comunque tutti e tutti e 31 hanno votato a favore quindi ci siamo grazie passiamo all'oggetto numero 3 acquisizione no 2 3 acquisizione 2 ma oggetto 3 allora acquisizione gratuita sensi dell'articolo 31,21 legge 448 del 1998 di alcuni tratti di stradali di via Romance chi ci illustra un po' è sempre è sempre sulla stessa cosa e quindi allora possiamo andare direttamente a votazione se non ci sono interventi ok andiamo allora a votazione no no 3 diciamo che sarebbe come l'oggetto 2 via perfetto no no ho detto potremo andare se non ci sono discussioni vuoi presentarlo prego quindi anche l'acquisizione 2 ecco è chiuso allora votanti presenti 31 tutti quanti affavorevoli quindi è stato approvato l'oggetto 3 acquisizione 2 quindi passiamo all'oggetto numero 4 acquisizione gratuita sensi dell'articolo 31,21 legge 23 1298 448 ed alcuni tratti di via Mestre anche in questo caso se volete andiamo direttamente a votazione prego che è stato già votiamo vedi che che snellezza perfetto quindi benissimo anche questo l'oggetto 4 quindi acquisizione numero 3 è passata con 31 voti favorevoli e l'oggetto è passato grazie possiamo andare all'oggetto numero 5 linee di indirizzo per il rinnovo dell'accordo parasociale volto alla disciplina della corporate governance ACEGAS APSA AMGA SPA per l'aggiornamento dell'accordo industriale con ERA SPA ci illustrerà l'argomentazione sull'oggetto la dottoressa laudicina l'assessore al quale do la parola grazie illustro un po' io e un po' qua il dottor Londero allora che immagino che i consiglieri di opposizione conoscono bene il contenuto di questa di parte di questa delibera si tratta dell'accordo industriale che fa riferimento a una delibera che è stata assunta nel 2014 e che praticamente prevedeva prima a livello di giunta e poi a livello di consiglio l'approvazione di quelli che erano due documenti all'attere diciamo dopo l'organizzazione industriale che aveva portato praticamente AMGA SPA a confluire tramite incorporazione in ERA SPA società della quale possediamo il 2,9% quasi il 3% e dunque allora questi la la sottoscrizione del patto industriale che è stato fatto che è avvenuta il 23 giugno del 2014 prevedeva praticamente disciplinava la governance di AAA ACEDAS APS AMGA e prevedeva anche un accordo cosiddetto di look up e la governance diciamo quali sono i punti salienti della governance la governance riguarda questo praticamente un consiglio di amministrazione costituito da sette membri di cui un componente nominato dal comune di Udine un componente nominato dal comune di Padova un componente nominato dal comune di Trieste e quattro nominati dalla società ERA un membro un membro del collegio sindacale però diciamo nominato congiuntamente giusto tra Trieste e Padova e gli altri due membri del collegio sindacale invece nominati sempre dalla società ERA l'accordo di Look Up è un accordo particolare collegato alla possibilità anzi la non possibilità direi o l'impegno a non vendere tutte le azioni possedute da qui poi è disceso un patto di sindacato e anche un comitato di sindacato di cui generalmente il sindaco manda a me a Bologna alle riunioni vi posso dire che ad esempio il comune di Trieste il comune di Padova e anche alcuni comuni dell'Emilia Romagna hanno deciso ad esempio di dismettere quest'anno proprio una parte del loro pacchetto di azioni Trieste mi pare per poter poi coprire l'investimento nel Porto Vecchio e proprio il 4 aprile c'è la riunione del comitato del patto di sindacato perché comunque l'idea è stata quella di provvedere alla vendita congiuntamente in modo da poter collocare sul mercato un pacchetto di azioni più sostanzioso e quindi anche poterlo vendere a un prezzo più alto diciamo che quello che l'oggetto su cui vi si chiede di deliberare è di confermare il contenuto diciamo di questo patto parasociale e questo patto parasociale mi dimenticavo di una roba importantissima prevedeva anche una pinale da un milione di euro che a carico di era qualora non avesse praticamente avesse violato gli impiegni previsti dal patto di sindacato questo per quanto riguarda diciamo il patto parasociale in senso stretto l'altro impegno che era aveva assunto era che è contenuto in un addendum no al patto stesso è la possibilità diciamo di costruire un impianto a metano anzi tre impianti a metano tre impianti a metano in regione no giusto no no attenzione in regione due sono stati costruiti ne rimaneva uno solo e diciamo che era inizialmente diciamo aveva preso in considerazione di costruirlo uno che non fosse a Udine poi dopo incontri vari si è chiesto che fosse costruita a Udine però purtroppo al momento ci sono delle difficoltà nella costruzione di questo impianto perché non si riesce a trovare un gestore disponibile perché abbiamo talmente poche macchine a metano che l'iniziativa viene considerata in perdita allora a questo punto si è pensato che si poteva diciamo inserire potevano essere diciamo valutate altri tipi di alternative che sono quelle che naturalmente potete prendere in considerazione anche in delibera ovvero mantenere la manutenzione l'ipotesi della realizzazione del terzo distributore del gas metano come previsto dall'accordo industriale oppure prevedere altre iniziative come appunto un supporto finanziario alla creazione di una centralina idroelettrica presso il largo delle grazie a memoria della figura appunto di Antonio del Malignani o la progettazione o la realizzazione sono tutte ipotesi naturalmente alternative e la realizzazione di una progettazione a scopo didattico di una riproduzione di una centralina idroelettrica funzionante per un importo comunque sia il contributo nel caso della centralina il recupero della centralina idroelettrica in largo delle grazie ossia nel caso della progettazione a scopo didattico di una riproduzione di una centralina idroelettrica per un valore massimo di 250.000 euro la quarta ipotesi che è stata inserita è l'attuazione di un progetto innovativo in materia di fonti rinnovabili e di efficientamento energetico su immobili che naturalmente sono comunali sempre per un valore di 250.000 euro dunque credo di aver detto più o meno tutto magari passo una parola un attimo ma anche se si tracorda il dottor Londro che magari lui ha approfondito e ha tenuto diciamo l'autore anche del testo della delibera quindi magari se volete ci facciamo dire anche qualcos'altro grazie dottoressa l'audicina quindi diamo la parola al dottor Londro se non ha da aggiungere nulla perfetto e ci sono ecco interviene il dottor professor Piduone puntualmente tac prego mi sento molto alunno con te che no guardi professore non si presta questa terminologia in una commissione ma la testa mia sotto i suoi piedi dal punto di vista formativo quando mi dai la parola mi sento molto mi sento molto alunno allora due cose sì è vero che non che non c'è l'obbligatorietà del fatto che i tre impianti di distribuzione del gas metano debba risiedere a Udine però comunque nell'accordo scusate nell'accordo industriale c'era era utilizzato il preferibilmente che ovviamente è diciamo è un impegno sì certo quindi penso che sia interesse del interesse del del comune proprietario insomma del comune azionista in questo caso se vogliamo utilizzare questo termine che comunque gli impianti rimangano siano tutti e tre nel comune di Udine prego la domanda è questa sulle alternative considerate dall'amministrazione è positivo che si rinnovino di fatto i patti per i prossimi cinque anni le alternative rispetto al terzo al terzo impianto penso che non abbiano tutte la stessa valenza sebbene siano tutte dentro una stessa soglia economica che se non sbaglio è 250.000 euro perché per esempio per la centralina del Malignani si fa riferimento esplicitamente al fatto che ERA o le società del gruppo comunque non sono disponibili ad effettuare la a occuparsi della gestione della centralina e non la supporteranno economicamente allo stesso tempo quindi vorrei capire diciamo la giunta che sottopone al consiglio anche queste diciamo queste opzioni se ha di fatto individuato una preferenza tra queste quattro diverse opzioni cosa sta considerando ricordato che diciamo la scelta di una ha delle positività dal punto di vista anche tecnico o meno rispetto alle altre grazie grazie consigliere risponde la dottoressa laudicina grazie beh quello che il pensiero della giunta credo che sia stato già si conosce non è il senso che anche già in questo consiglio più volte anche il sindaco non si è espresso diciamo per le due opzioni sono verso l'opzione B e verso l'opzione C cioè ovvero la appunto costruzione della centralina idroelettrica in largo delle grazie qui c'è tutto un lavoro che da parte degli uffici di contatti anche con il consorzio di bonifica perché cioè qui adesso gli interlocutori poi diventano più di uno naturalmente quindi diciamo che la prima e quella che piacerebbe più di tutti è sicuramente l'opzione B e poi in caso in subordine l'opzione C ecco queste sono le due ipotesi grazie dottoressa vedo che stava pensando di quasi quasi intervenire però tutto sommato si è tolto il dubbio bene quindi se non ci sono altri interventi io procederei alla votazione per questo quinto ed ultimo punto grazie infatti ero preoccupato benissimo c'è qualcuno che manca Pittioni lei il suo dito grazie la votazione è chiusa quindi votanti presenti 31 favorevoli 23 astenuti 8 l'oggetto numero 5 approvato vi auguro a tutti una buona serata arrivederci grazie grazie grazie